Oggi facciamo l'unboxing del Sigma 50 mm 1.4 serie art. Andiamo a vedere subito che cosa c'è nella scatola. Abbiamo una serie di manuali e librettini per la garanzia. Ovviamente il 50 mm in questione ha tacco Nikon essendo io possessore per il momento solamente della D750. L'obiettivo viene spedito in questa scatola bianca in questa custodia, in questa sacca da trasporto tipica di tutti gli obiettivi Sigma. Abbiamo il, in questo momento non mi viene il nome, comunque questo qua. E poi abbiamo l'obiettivo. Eccolo qua. Bello pesante. Fatto tutto in metallo. Le finiture sono molto buone a prima vista e la ghiera della messa a fuoco è molto fluida. L'escursione che va da 40 cm a infinito è veramente corta. Il che mi fa presumere che la messa a fuoco sia abbastanza veloce. Adesso andremo a vedere pure quanto precisa. I filtri dell'obiettivo sono da 77 mm e l'oggetto prima, ma è una lente ormai straconosciuta, ha un'apertura massima di diaframma di f1.4 e, a detta di tutti, già a 1.4 l'obiettivo è molto, molto definito. Adesso facciamo una serie di test e poi presumo alla fine del video metterò una serie di foto o anche video che girerò nei prossimi giorni. Allora l'innesto, non che sia una cosa rilevante, però l'innesto è molto sicuro e adesso facciamo un paio di test di messa a fuoco. Io ho comprato questo obiettivo su Amazon e si trova online a circa 700 barra 800 euro, dipende dalla importazione. Questa sinceramente non vi so dire che importazione è. C'è un distributore ufficiale per l'Italia che non mi ricordo quale sia, Mtrading, una cosa del genere. Io l'ho preso su Amazon perché ormai prendo la roba solo su Amazon, dato che in caso di problemi rispedisco tutto ciò che si rompe nei due anni di garanzia senza spese di spedizione, essendo iscritto ad Amazon Prime. Cercherò di mettere a fuoco vari elementi presenti nella stanza che è illuminata per il video. Allora, un attimo che controlliamo le specifiche, sto scattando il RAW. In questo momento l'esposimetro mi dice ISO 400, giusto per stare un po' larghi, un 320esimo f1.4. Ok, messo a fuoco sul pupazzetto di Star Wars, messo a fuoco sull'obiettivo di fronte alla Sony. Per il momento non sto sbagliando un colpo, anche se l'elemento del tocchino di fronte alla Sony è molto scuro. Adesso sto facendo una messa a fuoco rapida tra il pupazzetto sulla Sony e il calendario sulla parete. Molto veloce. Ecco, ovviamente sto facendo tutto col punto centrale della 750. Adesso mi sposto su un elemento diverso. io direi che la messa a fuoco è assolutamente fantastica. Questi sono tutti gli scatti effettuati a 1.4. Dopo li metterò in sequenza e li ingrandirò al 100% per vedere il risultato, la nitidezza, eccetera, eccetera. Adesso giusto per curiosità chiudiamo ad F2.2 e ovviamente ricalcoliamo l'esposizione. Adesso un 125esimo. Ok, facciamo una serie di scatti. Beh, diciamo che sto in questo momento facendo la spola tra un soggetto abbastanza vicino che è l'ombrello e il pupazzetto sulla Sony a6000 e devo dire che la velocità è veramente, veramente elevata. Adesso proviamo un elemento ancora più vicino. Qui, bellissimo. Che è tutto nero e quindi diciamo che la sfida è veramente tosta e pare che sia superata più che egregiamente. Adesso proviamo da infinito. Vediamo se la minima distanza di messa a fuoco può essere questa, sì. Adesso proviamo da infinito alla minima distanza di messa a fuoco. Che voi non lo vedete però. Te lo dico io. Via! E devo dire che mettere a fuoco in controluce su questo elemento abbastanza scuro è una sfida per tutti. Fortunatamente il sistema di messa a fuoco della 750 è molto più che valido, quindi potrebbe avere questo obiettivo delle performance diverse su altri corpi macchina. Alcuni miei amici dicono che le loro versioni su Canon fanno abbastanza schifo. Non le ho potute provare quindi non vi saprei fare un paragone, però l'autofocus di questo è molto, molto più che veloce. Un'altra prova da infinito, ora... Io devo dire che dal mio punto di vista è una lente impressionante, è uno dei nuovi must have della fotografia digitale moderna. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione, sia la versione Nikon che la versione Canon. C'è da dire che purtroppo questo Sigma e la serie Art in generale, credo non sia disponibile con attacco Sony E. E penso che questa sia una scelta un po' di mercato, perché altrimenti una lente come questa su una mirrorless Sony, o anche Fuji, sarebbe veramente... ammazzerebbe completamente il mercato delle, io penso, quasi ormai Vetuste Reflex. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, se avete delle domande le potete fare nei commenti. Sotto nella descrizione trovate tutti i link ai miei vari social e anche ai prodotti che utilizzo. Bene, adesso iniziamo la revisione delle foto, che sono tutte quelle che avete già visto mentre facevo il test di messa a fuoco, della velocità di messa a fuoco durante il video. Solamente che in questo caso sono le foto alla massima risoluzione, 6000x4000 il file che produce la Nikon D750 e sono state esportate da Lightroom, senza aggiungere modifiche particolari, se non altro il bilanciamento del bianco. Questa è tutta la serie di foto scattate a 1.4, questa in particolare era stata fatta appuntando all'elemento frontale della tocchina di fronte alla mia A6000. Questa del calendario dovete considerare la distanza del soggetto scattato che era all'incirca di 3,5 metri, mentre la fotocamera è posizionata a circa 2 metri. Vedete che nonostante la distanza e l'apertura del diaframma a 1.4, la nitidezza è particolarmente buona e la messa a fuoco molto molto precisa. Come ho già detto prima nel video ho utilizzato il punto centrale di messa a fuoco, pertanto il crop al 100% che ho ottenuto da Photoshop ingrandendo la visualizzazione dell'immagine al 100% e ritagliando l'area visualizzata e per l'appunto l'area centrale dell'immagine, ovvero quella che ho messa a fuoco. Questa è la serie di foto scattata f2.2, giusto per capire qualora ce ne fosse bisogno la differenza, che ovviamente c'è, però è più una differenza che si nota sullo sfocato che sull'effettiva nitidezza. Qui vedete un po' di purple fringing sull'elemento centrale dell'ombrellino, però con un forte controluce direi che è tutto sommato più che accettabile. Queste sono le foto scattate alla quasi minima distanza di messa a fuoco, potete notare il dettaglio della zip, della custodia dell'obiettivo del Sigma 50 Art. Possiamo apprezzare quanto sia nitido al di là di piccoli problemi di micromosso dovuti al fatto che tenevo la fotocamera con una sola mano. Se volete rivedere un po' le immagini al 100% vi consiglio di riandare indietro durante il video e di mettere pausa, un'ultima cosa che vi dico è che le immagini a piena risoluzione sono state importate dentro Final Cut senza applicare nessun tipo di ritaglio o post produzione colore o qualsiasi altra cosa dentro Final Cut.